Se seguite il nostro canale, beh il nome Fido non vi risulterà assolutamente nuovo. E questo perché proprio questa azienda è un'azienda che produce biciclette veramente interessanti, ne produce tante e continua ad innovare. E proprio per questo è diventata famoso. E quindi andiamo a vedere questa Fido D11 che vedete lì, anzi qua, alle mie spalle. Andiamo a vedere come funziona e quali sono le sue caratteristiche principali. Come sempre però ragazzi, prima di iniziare vi chiediamo di lasciare un like a questo video, a questa recensione, naturalmente se vi piacerà vi aspettiamo anche con un commento e poi iscrivetevi così non vi perderete i prossimi contenuti. Ma allora andiamo a vedere quali sono le caratteristiche principali proprio della Fido D11. Innanzitutto la prima cosa che vi voglio menzionare è che bisogna fare grossi complimenti all'azienda perché realizza prodotti con un design sempre unico e piacevole. E in effetti anche questa D11 si fa notare proprio per il bellissimo telaio in alluminio che ricorda i prodotti monoscocca e che poi si fa notare ancora di più per la gradevolissima colorazione verde. Solita attenzione, inoltre, nella disposizione dei fili, che anche in questo caso sono gradevolmente raccolti all'interno di alcuni pressacavi realizzati molto bene e che poi si adattano quindi quando andiamo a piegare o a girare il manubrio. Questi inoltre, i fili, rientrano all'interno del telaio e corrono dentro di esso fino poi a raggiungere il motore posto sulla ruota anteriore, anche in questo caso una soluzione veramente particolare che la si può notare quando andiamo a piegare la bici con la molla che va a racchiuderli. Ovviamente un design tanto particolare ha richiesto soluzioni altrettanto particolari che comunque mi hanno veramente impressionato. E questo mi ha sorpreso poi perché nonostante queste soluzioni particolari alla fine lei è una delle biciclette più semplici da aprire e chiudere oltre che da utilizzare. La soluzione in assoluto più particolare di tutte risiede nel fatto che la batteria è posta nel canotto della sella. La si può quindi tranquillamente staccare e portare con sé magari dentro casa per la ricarica oppure se non vogliamo che qualcuno ci rubi uno dei pezzi più importanti. Per richiuderla poi basta allentare l'aggancio rapido posto sul canotto centrale e quello poi posto sul manubrio e in un attimo la bici sarà richiusa occupando veramente poco spazio. Il peso poi della bicicletta completa di sella e tutto è di 18,5 kg che già di per sé non è tanto ma però andando ad eliminare, a togliere la sella in modo veramente rapido beh tutto il peso della bici andrà sotto i 13 kg che quindi risulta veramente comodo una delle più leggere in assoluto, anzi forse la più leggera. Per richiuderla invece basta fare la procedura inversa cosa che è altrettanto semplice e veloce e non richiede alcun sforzo particolare e quindi anche le persone non giovanissime potranno fare questa procedura senza problemi. l'unico difetto da segnalare alla fine è l'impossibilità di andare a piegare quindi a richiudere i pedali. Continuando comunque sulle sue specifiche ci sono da dire una serie di altri dettagli diciamo tecnici e alcuni di questi sono il fatto che il motore è da 250 watt ha ingranaggi però quindi non brushless e questo lo fa rientrare nella normativa italiana così come la velocità massima che è di 25 km orari. sulla parte frontale abbiamo una buona luce che permette quindi di illuminare in modo sicuro la strada di fronte a noi ma anche invece purtroppo il parafango sia nella parte frontale che posteriore che però eventualmente potete acquistare a parte. Il cambio è un Shimano 7 rapporti con corona 50 a due denti abbiamo naturalmente un cavalletto solido da utilizzare per il supporto della bici e per appoggiarla. il manubrio poi è realizzato altrettanto bene con delle manopole con una bella gomma morbida con diciamo delle striature per non farvi sudare le mani e su cui troviamo su un lato i comandi per cambiare rapporto e usare l'acceleratore. Ed ecco questa è una delle cose che meno mi hanno convinto per due motivi in particolare. il primo è il fatto che il comando per alzare il rapporto del cambio è posto in una posizione veramente difficile da raggiungere e per nulla comoda insomma bisogna andare un po' in cerca con l'indito prima di trovarla. E seconda cosa il comando dell'acceleratore la rende di fatto non legale in Italia quindi se volessimo usarla nel pieno rispetto delle regole beh non dovremmo mai toccare quella leva anche perché una volta che la teniamo premuta per qualche secondo circa 10 secondi la bici inizia a mantenere la velocità che abbiamo impostato attivando una sorta di cruise control. Il tutto per carità si disattiva non appena tocchiamo i freni però di per sé è una cosa che dal mio punto di vista non è proprio sicurissima. Dall'altra parte invece abbiamo il computer di bordo che in questo caso è un po' il classico e il tipico che troviamo su tutte le bici Fido e in effetti anche il display è il classico Fido ovvero un LCD retroilluminato che ha meno proprio di condizioni particolari una volta che si è in serra lo si riesce sempre a leggere molto facilmente e poi da lodare il fatto che tutti i numeri e le indicazioni abbiano simboli grandi e visibili al volo. Con i pulsanti posti sul lato del computer di bordo possiamo accedere o spegnere il computer stesso oppure andare a modificare l'intervento della pedalata assistita da 1 che è al minimo fino a 3 dove invece il motore interviene in modo significativo nell'aiutare proprio la pedalata. I limiti di velocità di questi tre step sono da 10 fino a 15 poi 25 km orari. E ovviamente poi non mancano anche dei freni che sono una delle altre cose che mi ha particolarmente colpito di questa bicicletta e questo perché sono due freni a disco uno sull'anteriore e uno sul posteriore e sono decisamente modulabili nella potenza e mai troppo aggressivi rischiando quindi di farci cadere su terreni sconnessi o bagnati. Molto buone anche le ruote da 20 pollici e dal mio punto di vista anche gli pneumatici che sono fini abbastanza da non opporre troppo resistenza nell'asfalto ma sono anche tassellati cosa che ci fa stare tranquilli anche se affrontiamo qualche terreno sterrato o qualche pezzo diciamo con pozzanghere o fango. Come avrete notato manca un sistema di ammortizzazione che però dal mio punto di vista non è una mancanza così grave, così fondamentale perché comunque ci sono pneumatici che assorbono abbastanza bene e poi insomma non è una bici adatta per fare downhill o cose del genere. In ogni caso non mi ha invece molto soddisfatto la sella che si presenta abbastanza dura e poco confortevole almeno per le lunghe distanze. Sotto di lei comunque troviamo oltre alla batteria che abbiamo menzionato prima lo spinotto per la ricarica che ora è facile da raggiungere non come le vecchie Fido richiede comunque quasi 5 euro per una ricarica completa. Sulla parte posteriore invece abbiamo lo spinotto per il collegamento al motore che è con una sorta di sicura quindi per evitare che si allenti o si scolleghi in modo involontario e comunque una volta che noi l'abbiamo collegato dobbiamo attivare la bici con il bellissimo pulsante circolare in acciaio posto sopra di esso e quando si illumina il led rosso ci fa capire insomma che la bici è pronta e può essere utilizzata in modalità elettrica. Ovviamente poi però la cosa che più vi interessa sapere sono sicuro che riguarda l'autonomia e poi come si comporta su strada. Beh parlando di autonomia devo dirvi che la batteria è a litio ed è da 11 ampere e associata poi al motore secondo i dati dichiarati dell'azienda permette di raggiungere circa 100 chilometri. Nel mio test ho visto che in modalità solo elettrica quindi senza utilizzare alcuna pedalata assistita l'autonomia è di circa 30 chilometri per me che pesa 80 kg circa. Mentre in pedalata assistita impostata su livello 2 si arriva a circa 80 chilometri che vero sono inferiori a quanto dichiarato dall'azienda di un buon 20% però sono comunque decisamente buoni. Nell'utilizzo poi comunque la bici è abbastanza rumorosa si sente parecchio e questo è dovuto naturalmente al tipo di motore che come vi ho detto prima non è brushless ma ingranaggi e anche freni a disco che ci vuole qualche decina di chilometri prima che si assestino non presento quel classico sibilo da rodaggio. Detto questo comunque abbiamo la possibilità di un'ampia regolazione della sella mentre purtroppo non è regolabile il manubrio. Il suo utilizzo comunque in generale mi è veramente piaciuto perché è molto semplice si deve agire su un solo pulsante per andare a effettuare tutte le varie modifiche a effettuare le impostazioni e anche quindi a scegliere lo sforzo del motore tra l'altro grazie al cambio a 7 rapporti e la buona spinta combinata diciamo tra motore e la nostra forza praticamente chiunque può affrontare salite anche di una certa pendenza di una certa importanza senza alcun problema. Io l'ho messa sotto sforzo sia su sterrati complicati che su salite impegnative e lei si è difesa veramente sempre molto bene dandomi sicurezza e non dimostrando mai particolare fatica nell'affrontare queste situazioni anche se naturalmente è pensata principalmente per la bici diciamo io ho voluto un po' esagerare. Le cambiate poi inoltre sono gestite elettronicamente sono secche, precise, non dando mai sensazioni strane o facendo sembrare che la catena possa uscire o che ci possono essere pericoli di qualche tipo e poi il tutto è condito con un design veramente unico nel suo genere. E quindi avete capito che sia vero ho menzionato qualche piccolo difetto come per esempio il fatto che ci sia un acceleratore che quindi non la rende totalmente legale in Italia che alcuni pulsanti sono difficili da raggiungere però alla fine mi è piaciuta una gran bicicletta elettrica secondo me con un'ottima autonomia un design veramente veramente unico e fatta assolutamente bene. Questo è tutto, io come al solito vi ricordo che qua sotto potete lasciare un like se questo video vi è piaciuto e un saluto da Notebook Italia e da Daniele Pintus. Grazie a tutti.